10 miliardi e oltre. È questo l'ammontare dell'aumento del gettito IVA nei soli primi 5 mesi dell'anno. E queste entrate tributarie sono legate all'aumento dei prezzi e quindi il Governo sta praticamente facendo la cresta su quello che è il problema quotidiano dei cittadini italiani, cioè quello di mettere il pane in tavola. Allora, 10 miliardi in più li dobbiamo usare subito per diminuire all'1% l'IVA sui generi alimentari. Noi abbiamo dei dati preoccupanti sull'inflazione che è arrivata oltre l'8%, abbiamo dei generi alimentari che hanno un'inflazione di oltre il 20%. Cioè sono dei dati drammatici e già qui davanti al Parlamento abbiamo le prime rivolte. Vedremo cosa succederà a settembre-ottobre se non agiamo subito. Questo Governo deve mettere in campo delle misure di contrasto a quello che è l'aumento dei prezzi e dei generi alimentari. Presidente, noi di Alternativa abbiamo fatto varie proposte in questo senso, ce le avete sempre bocciate. Adesso sembra che il Ministro Brunetta e il Ministro Franco si siano ravveduti e stiano iniziando a fare i conti con la realtà. Speriamo bene, noi auspichiamo che finalmente si possa fare qualcosa per risolvere questo problema. Grazie Presidente. Grazie. Grazie.